Buongiorno ragazzi e bentornate sul canale, come state oggi? Tutto bene? Oggi inauguriamo questa nuova sezione sul mio canale dedicata alle lezioni make up Farò quindi due upload settimanali, il mercoledì resterà il giorno dei video tutorial e delle video review mentre la domenica sarà dedicata appunto a queste piccole video lezioni Quello che faremo in queste lezioni sarà parlare di tutti gli step fondamentali per realizzare un trucco A partire dalla base finendo ovviamente con le labbra, con qualche trucchetto qua e là Oggi parliamo di skin prep, quindi di preparazione della pelle Io vi lascio direttamente al video, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E ricordatevi di cliccare la campanellina delle notifiche così non perdete i nuovi video in arrivo sul canale Qui sotto in info box troverete la lista con tutti i prodotti utilizzati nel video appunto E la lista con tutti i social per andare a seguirmi Qui sotto ovviamente vi lascio la handle per andare a seguirmi su Instagram Vi mando un bacione Ciao La preparazione della pelle è fondamentale per la buona riuscita e la buona resa sia del fondotinta Ma anche di tutti gli step applicati successivamente appunto alla base Io ovviamente ho qui con me un pochettino di punti chiave così non mi perdo nei discorsi come faccio di solito Quindi se guardo in basso è perché sto guardando la mia lista La skin prep è realizzabile ovviamente con i vostri prodotti skin care Quindi quella skin care che fate la mattina o la sera potrete replicarla in maniera un pochettino più leggera Anche prima di andare a truccarvi Ovvio che non serve realizzare la skin care completa appunto prima di realizzare il trucco Quello che vi servirà prima di stendere il fondotinta sono semplicemente la crema idratante, il contorno occhi e importantissimo il balsamo labbra Prima di realizzare la preparazione della pelle dovete tenere a mente due cose fondamentali Uno il vostro tipo di pelle Due il tipo di risultato che volete ottenere una volta iniziato il trucco Chiaramente in base al vostro tipo di pelle dovrete scegliere dei prodotti adatti alle vostre esigenze Ovvero se avete una pelle grassa vi consiglio di dirigervi su creme leggere Che siano idratanti ma non eccessivamente nutrienti Sono due cose diverse Idratanti in modo tale che la vostra pelle rimanga idratata per tutto il resto della giornata O comunque per il resto del tempo che indosserete il trucco nutriente va a nutrire la pelle Più la pelle è grassa meno nutriente deve essere il prodotto Altrimenti risulterete troppo grassi e la vostra pelle produrrà ovviamente più sebo Quindi l'effetto non sarà granché bello Quindi vi consiglio di orientarvi su magari una crema idratante in gel Che potete stendere solo sulle zone dove tendete ad ingrassarvi un pochettino di più Che di solito è la zona T E procedere magari con qualcosina di più illuminante lungo magari i punti alti del viso Se avete una pelle secca vi consiglio una crema abbastanza nutriente Andate a tamponare anche questa nelle zone di maggior secchezza E poi piano piano la sfumate sul resto del viso Con una pelle normale o mista avete diciamo the best of both worlds Quindi potete scegliere di andare con una crema un pochettino più leggera Se la preferite più leggera O un pochettino più nutriente se preferite avere qualcosa di un pochettino più strong E rendere appunto la base più luminosa La cosa fondamentale che dovete tenere a mente è che appunto la skin prep Influenza il risultato dei prodotti cremosi che andate a mettere successivamente Quindi partiamo Contorno occhi Adesso sto utilizzando il contorno occhi di The Ordinary Che è Caffeine Solution 5% più EGCG Questo in teoria dovrebbe schiarire lo scuro del contorno occhi Quello che dovete fare è innanzitutto prenderne davvero poco Questa è la quantità che utilizzo io Lo distribuite sull'altro anulare E dovreste tenervi lontani dalla zona dell'arima inferiore Questo perché il contorno occhi è uno dei primi motivi per cui il correttore tende a scivolarvi E a non settarsi in maniera ottimale Quindi con il contorno occhi dovreste tenervi in questa zona Quindi abbastanza lontani dalla zona dove andrete ad applicare il vostro trucco Io ne applico un pochettino anche lungo sulle palpe perché anche questa in realtà è zona di contorno Fate in modo di farlo penetrare bene Quindi lavoratelo bene e tamponatelo bene Tamponatelo con gli anulari perché la zona del contorno è molto delicata Quindi non dovete andare a stressarla troppo L'anulare è il dito con meno forza all'interno della nostra mano Quindi lo tamponate bene fino a completo assorbimento Come vi ho detto dovete tenere in mente che tipo di risultato volete ottenere dalla vostra base Se volete ottenere un effetto opaco del vostro fondotinta A prescindere dal tipo di fondotinta che andate ad utilizzare Vi consiglio di stendere la crema idratante soltanto nelle zone secche del viso E ricordatevi di farla penetrare bene all'interno della pelle Se invece volete una base un pochettino più luminosa Volete risaltare le parti alte del viso Vi consiglio di stendere la crema idratante lungo appunto le parti alte Per fare questo tipo di lavoro quindi di solito io come skin prep Utilizzo soltanto la skin food di Welleta Perché mi dà nutrimento e anche idratazione E fa proprio quello che piace a me Quindi va ad illuminare il fondotinta che io poi metto sopra Di questa ne basta davvero pochissima perché è molto ricca, molto concentrata Quindi questa è la quantità che utilizzo io di solito La scaldo bene sulla mano E per andare a fare una base glow faccio questo La tampono prima di tutto lungo le parti alte che voglio mettere in risalto Quindi lo zigomo, vado un pochettino sul mento, sul naso e vado poi sulla fronte Guardate già che differenza tra questa zona qui dove ho la crema e qui non ce l'ho Questa crema è veramente ottima In più è molto molto economica Vi lascio qui sotto il link per andare a acquistarla su Amazon Quella che mi resta sulla mano La vado a pressare nelle zone che di solito io ho un pochettino più secche Per farvi vedere una buona base opaca Di solito a me tende a seccarsi la zona del naso Quindi la concentro un pochettino di più E vado anche sulla fronte perché anche lì tende a seccarsi un pochettino Quello che resta la porto in giro Guardate che differenza Questa qui ovviamente resterà più opaca Perché ho la crema nei punti che tendono a seccarsi Altro step estremamente fondamentale della skin prep È la preparazione delle labbra In questo caso sta un pochettino a voi scegliere Nel caso della crema idratante e del contorno occhi Si tende a prediligere qualcosa che sia più adatto alle nostre esigenze Per le labbra è anche una questione di preferenze personali C'è chi preferisce mettere il burro cacao C'è chi preferisce qualcosa di più ricco Quello che utilizzo io per idratazione durante l'arco della giornata È il Reve de Miel di Nuxe che è un balsamo molto ricco a base di miele Oppure se ho bisogno di idratazione prima del trucco Vado ad utilizzare il balsamo labbra di Burt's Bees Questo è nella versione trasparente quindi non ha colore e non ha sapore Però di Burt's Bees ne fa davvero tanti Io ne avevo uno al melograno che mi piaceva tantissimissimo Di questo qui di Nuxe ve ne basta davvero pochissimo Per idratare tutta la bocca Io ne uso questa quantità Ora purtroppo ho il pennello giù E lo vado a stendere sulle labbra Questo è lo stesso balsamo che io metto anche la notte Quindi se voglio un'idratazione a lungo termine Lo metto anche la notte prima di andare a dormire Ed è quello che metto sempre la mattina Quando faccio la skin care appunto per darmi idratazione Durante tutto l'arco della giornata E ovviamente ricordatevi di idratare le labbra Prima di iniziare il trucco In questo modo tutto il tempo che voi passate a toccare gli occhi Toccare la base eccetera eccetera Le labbra avranno acquistato la loro idratazione Se avete una cerimonia, un matrimonio Vi sposate voi eccetera eccetera Quello che vi consiglio è di procedere con la skin prep Già dalla sera prima Questo perché tanti trattamenti non si possono fare Lo stesso giorno della cerimonia Perché la pelle tenderebbe ad arrossarsi e ad irritarsi Quindi vi consiglio già dalla sera prima Di pulire bene la pelle Facendo doppio cleansing Quindi cleanser e lo stroccante Tonicizzare bene la pelle In modo da togliere tutte le impurità Fare uno scrub che potete sia comprare online Ce ne sono tantissimi Ma se vi serve così a corto raggio Potete tranquillamente realizzarlo voi Con lo zucchero e un pochettino di miele Oppure addirittura dell'olio di cocco E ovviamente puoi passare anche all'applicazione delle maschere In questo modo durante la notte la pelle ha il tempo di rigenerarsi E giorno dopo vedrete la differenza Lo stesso per le labbra Potete fare uno scrub molto leggero già giorno stesso Se non avete uno scrub potete magari mentre vi lavate i denti Con lo spazzolino molto delicatamente passare a scrubbare le labbra Oppure idem realizzarlo voi in casa Io per esempio me lo faccio da sola a casa E appunto prendere dello zucchero con dell'olio di cocco O con del miele Addirittura anche l'olio d'oliva Va benissimo Tra la skin prep potremmo anche annoverare l'utilizzo del primer Per esempio io non lo utilizzo mai perché non mi piace l'effetto del primer E lo utilizzavo magari in passato Però poi ho iniziato ad apprezzare i fondotinta di più senza primer Anche in questo caso dovete scegliere il primer che faccia al caso vostro Se avete una pelle grassa andate con un primer leggero in base gel In modo tale da non sovraccaricare la pelle E non fare l'effetto opposto Se avete una pelle secca andate con un primer che sia idratante E anche nutriente se volete Se avete una pelle normale o mista Scegliete anche lì il primer che vi possa aiutare a rendere la base e il fondotinta Che andrete a mettere poi il migliore possibile Le potete anche unire l'azione di due primer Quindi prendere un primer opacizzante per la zona T Che di solito è quella che le si lucida di più E magari un primer illuminante per il resto del viso E bilanciare così l'azione dei due prodotti Altro piccolo trucchetto che voglio darvi è questo qui Fare le sopracciglia prima di procedere con la skin prep Questo perché avere sotto le sopracciglia O comunque sulla parte che andrete a disegnare delle sopracciglia Dei prodotti cremosi o comunque degli oli eccetera eccetera Potrebbe interferire con la buona scrivenza e riuscita Del disegno delle sopracciglia Se è che utilizzate un pennarello, una pomade o una polvere Realizzarle prima di applicare tutti i prodotti della skin prep È secondo me uno step ottimale Innanzitutto perché se andate ad utilizzare un pennarello Cosa succede? Il pennarello va poi a prendere dalla pelle Tutto il prodotto oleoso che è rimasto su Potreste rovinare la tip appunto del pennarello Idem magari se le fate con una pomade Se di solito vi vengono dei peli ben precisi Magari andando a fare la skin care prima delle sopracciglia Noterete che magari il tratto è meno preciso Idem con la polvere In più con la polvere non riuscirete mai ad ottenere un tratto preciso Pulito e ordinato Se sotto avete appunto i prodotti in crema Ragazzi questo era tutto Quindi prima lezione andata Fatemi sapere nei commenti se questo tipo di video vi piace E se avete qualche lezione in particolare O qualcosa in particolare Che vorreste imparare Io capirò un attimino adesso Come migliorare i video E come migliorare anche il mio teaching method Nel frattempo vi mando un bacione enorme Noi ci vediamo domenica prossima con un'altra lezione Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale Se non lo avete ancora fatto E attivare la campanellina delle notifiche Così non perdete i nuovi video in arrivo Come sempre lasciatemi un bel mi piace enorme Lo sapete mi fa sempre tantissimo piacere Noi ci vediamo alla prossima Ciao